Sono ripresi ieri pomeriggio a Martignano gli allenamenti del Lecce in preparazione del big match contro il Matera in programma domenica alle 17.30 al Via del Mare. Il Matera spera ancora di poter raggiungere i play-off anche se, vista la situazione in classifica, non è un obiettivo semplice da raggiungere. In occasione della gara contro la compagine lucana, il tecnico Mr. Braglia dovrà fare a meno di due pilastri fondamentali della difesa, come Giuseppe Abruzzese e Francesco Cosenza. Infatti entrambi sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo e saranno costretti a saltare la prossima sfida. Difficile anche un recupero di Gianluca Freddi, da diverse settimane fermo ai box a causa di un problema fisico che lo costringe a svolgere un allenamento differenziato. Oggi prevista una doppia seduta, al mattino al Via del Mare e nel pomeriggio trasferimento a Martignano, dove Capitan Papini e compagni si allenano a porte chiuse. E' inutile dire che per domenica si attende il pubblico delle grandi occasioni e tutto lascia presupporre che si possa anche superare il record stagionale di affluenza. Pari a 13.000 spettatori presenti nella partita contro il Foggia. A Matera è stata lanciata una sfida, i 1.000 a Lecce per sostenere la squadra. Di contro a Lecce ci sarà una vera e propria bolgia. E' facile immaginare che si possa toccare anche quota 15.000 spettatori, numeri da altra categoria. E per questo la società potrebbe chiedere l'aumento della capienza dello stadio. Lo sconto attuato dalla società salentina potrebbe far aumentare l'affluenza allo stadio. Tale iniziativa è stata un vero successo. Infatti, coloro che hanno acquistato un tagliando per assistere alla partita Lecce-Catanzaro hanno la possibilità di comprare il biglietto per Lecce-Matera con lo sconto del 50%. Così tanti supporter del Lecce hanno approfittato di questo vantaggio per assistere a due gare. Per il Lecce si annuncia l'ennesima battaglia. Il Matera dell'ex Padalino non perde da otto partite, ma la squadra di Braglia è in grandissima forma. Anche a Cosenza ha dato prova di carattere, vincendo per 4-3. Un risultato meritato che ha premiato i Salentini di fronte ad un Cosenza comunque temibile che in casa propria non aveva mai perso. Al San Vito Marulla i giallorossi hanno allungato la striscia di risultati utili consecutivi a 18 partite. Una vittoria che ha portato il Lecce a occupare la seconda posizione in classifica, a un solo punto dal Benevento. A sei giornate dal termine del campionato, i tifosi giallorossi sono sempre più convinti che questa sia l'annata giusta per centrare il salto in Serie B, anche se la bagarra con il Benevento durerà fino in fondo e probabilmente sarà decisa dall'esito dello scontro diretto in programma alla penultima giornata. Intanto oggi è stato formalizzato l'ingresso di Alessandro Adamo nel Consiglio d'amministrazione dell'Unione Sportiva Lecce. Adamo, originario di Racale, era già azionista da un paio di mesi. Pertanto il Consiglio d'amministrazione della società risulta così composto Presidente Enrico Tundo, Vicepresidente Stefano Adamo, Consiglieri d'amministrazione Alessandro Adamo, Salvatore De Vitis e Paolo Del Brocco.